Sequestrato dalla Guardia di Finanza di Caglia in un elicottero utilizzato per il traffico di stupefacenti. Durante l'operazione a fronte del porto, la polizia tributaria del capologo Sardo ha arrestato tre persone. Sono stati inoltre confiscati più di 11 kg di cocaina e l'elicottero utilizzato ai malviventi per trasportare la droga dalla penisola. L'uso dell'elicottero doveva servire per evitare controlli negli scali portuali ed aeroportuali. Le indagini avviate dall'FM Giallo hanno tuttavia vanificato la possibilità di una nuova frontiera criminale, individuando l'elicottero atterrato e decollato fuori dalle aree consentite. Alla guida del velivolo un pluripregiudicato emiliano di 41 anni, implicato anche nel contrabbando dei tabacchi nel Pavese, dove, insieme ad altri due soggetti moldavi, si occupava di produrre e impacchettare le sigarette per poi introdurle sul mercato. Visti i precedenti, la Guardia di Finanza di Cagliari ha emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti del soggetto per un valore complessivo di 500.000 euro, tra i quali, oltre all'elicottero, tre automobili e quote di due società di capitali, intestate a dei prestanome.